presentazione delle guide dell'espresso sia di vini che di chef abbiamo qui lo chef serva che arriva direttamente dalla trotta di rivodutri sorridente perché quel mezzo punto della guida dell'espresso in più chiaramente utile utilissimo ci colloca a ridosso dei 26 quindi diciamo ormai siamo lì cerchiamo di continuare a far bene a far star bene il nostro pubblico e questo chiaramente ci aiuterà per il proprio futuro. Con una cucina di pesce di lago di fiume? Pesce di lago di fiume che in quest'ultimo periodo diciamo noi ecco siamo riusciti un po' a sdoganare questo prodotto e stiamo andando in giro anche fuori dell'Italia quindi molto positiva questa nostra scelta di cucina di prodotto e tanti appassionati arriveranno anche a rivodutti. Bene bene quindi in questa recensione lei ha già letto noi leggeremo con calma leggeremo un po' tutte ecco cosa cosa dicono c'è un nuovo ambiente alla trotta? Sì piatti infrastrutturati colori vivi e tutto quello che noi abbiamo pensato poi di riportare sulla tavola quindi grazie anche a queste guide che continuano a divulgare, a far conoscerci e a farci anche aiuto nel lavoro.